Il 27 gennaio è una data particolarmente sentita per tutti gli appassionati di JRPG. Sarà infatti il giorno di pubblicazione di Tales of Berseria, episodio che farà segnare un netto avvicinamento della serie a tematiche più mature e profonde. Abbiamo avuto modo di mettere le mani su una sua build PC piuttosto avanzata, affrontando le prime dieci ore dell'avventura. Eccovi le nostre impressioni. In Tales of Berseria vestiremo i panni di Velvet, una sedicenne che si è trovata a suo malgrado ad affrontare una vita più dura di quanto aspettasse a una giovane donna come lei. Un portale demonieco si è aperto su Midgand, riversando su tutto l'impero e sul pacifico villaggio di Abal la cosiddetta Demonite, una sorta di morbo in grado di trasformare gli uomini in licantropi, zombie e altre creature assetate di sangue. Dal punto di vista del gameplay troveremo in Berseria alcune sostanziali novità rispetto al precedente episodio. Pur poggiandosi nuovamente sull'ormai rodatissimo Linear Motion Battle System, il sistema di combattimento tenterà di guadagnare una maggiore fluidità e profondità d'approccio, smussando buona parte delle criticità del passato. Come in Zestiria, il Comparto Abilità vanterà un numero assai elevato di arti marziali e arti occulte, molte delle quali ci permetteranno di attaccare ad area, di infliggere status alterati o di ottenere dei bonus al danno contro particolari tipologie di nemici. Avanzando di livello ne sbloccheremo di nuove, che ci permetteranno di ottimizzare al meglio le nostre combo in base alle diverse situazioni che affronteremo. Ad ogni attivazione di un'arte consumeremo una porzione della cosiddetta barra dell'anima, che una volta esaurita non ci negherà, al contrario di Zestiria, di poter attaccare nuovamente il nemico, rendendoci però più esposti agli attacchi nemici. La vera novità tuttavia è rappresentata dalla presenza dei cosiddetti punti anima, una sorta di punti combo con cui attivare degli attacchi estremamente potenti, e che Velvet potrà conquistare risucchiando la vita di alcuni importanti personaggi incontrati durante lo storyline. I membri del party, che potranno comunque essere controllati in prima persona, verranno gestiti direttamente dall'intelligenza artificiale, seguendo le impostazioni che gli assegneremo nell'apposita schermata dedicata alle strategie di combattimento. Ognuno di essi sarà caratterizzato da combinazioni di arti ed equipaggiamenti unici, così da aggiungere un pizzico di varietà al combat system. Molto interessanti saranno gli scontri con i cosiddetti nemici terribili, ossia delle creature potenziate che compariranno una volta che avremo ucciso più e più volte i mostri presenti in una determinata area, e che ci permetteranno di recuperare degli oggetti piuttosto rari. Stesso discorso per le numerose boss fight che affronteremo nel corso della progressione, che sono parse ben congeniate e articolate. Avremo inoltre l'opportunità di potenziare l'equipaggiamento in nostro possesso, ottenendo degli speciali tool da fabbro e sfruttando le opportune risorse che potranno essere raccolte attraverso l'esplorazione delle varie aree di gioco, comprate dai mercanti oppure recuperate dalla scomposizione degli oggetti ormai inutili. Per il resto, Tales of Berseria presenterà le medesime semplicistiche situazioni esplorative di Zestiria. Il level design delle aree è piuttosto canonico, con tanti sentieri recintati da muri invisibili che conducono a spiazzi leggermente più ampi. Viaggeremo comunque attraverso numerose città e dungeon ben differenziati, nonché disseminati di oggetti da raccogliere e forzieri da sbloccare. Sul fronte grafico, Tales of Berseria è un titolo che presenta una buona direzione artistica, capace di differenziare egregiamente i vari personaggi e le diverse regioni di Midgand. Il design di Velvet, così come quello degli altri personaggi secondari, è infatti abbastanza ispirato, anche dal punto di vista delle animazioni nel bel mezzo dei combattimenti. Le architetture delle città ci sono sembrate discrete ma un po' spartane, mentre i dungeon risultano ben differenziati a livello geologico, climatico e cromatico. Fantastici invece i filmati animati che inframezzeranno i momenti più importanti della storyline, che non hanno davvero nulla da invidiare agli anime più in voga nel sollevante. La prova di ben dieci ore con una build avanzata di Tales of Berseria ci ha permesso di rapportarci con un'unica, grande verità. La serie dei Tales sta maturando poco alla volta, nel tentativo di toccare tematiche meno stereotipate e tasti più dolorosi. Interessanti sono anche le novità dal punto di vista del sistema di combattimento, che pur poggiando sul vecchio erodato Linear Motion Battle System, è migliorato sotto il profilo della fluidità e del dinamismo. Tales of Berseria sembra quindi avere tutte le carte in regola per potersi inserire nella timeline della serie come uno degli episodi più interessanti. Non ci resta quindi che attendere il 27 gennaio, giorno in cui il titolo farà il suo approdo su PlayStation 4 e PC.